Per la giornata della memoria i ragazzi hanno organizzato una cosa grandissima che è nata da poca cosa, da documenti che abbiamo trovato nell'archivio della scuola. Il professor Anzato ne ha fatto un laboratorio storico, il lavoro si è dilatato enormemente, ha coinvolto l'intera scuola con grande entusiasmo. Come vede c'è il CAT che si è occupato di predisporre i locali, il grafico li ha individuati, ha curato l'allestimento. Quello che io noto di bello è che ogni indirizzo ha messo in campo le proprie competenze per cooperare a un lavoro di tutti. Siamo voluti andare indietro nel tempo di qualche anno, 1938, leggi razziali, perché in effetti le leggi razziali hanno costituito in Italia, anche qua a Mantua, un momento molto delicato per tutte le scuole italiane. È stato il momento nel quale è stata decisa l'espulsione degli studenti e dei professori di virgolette razza ebraica. E abbiamo scoperto, i ragazzi hanno scoperto, che anche al liceo d'Este era stata consumata questa espulsione come in tante scuole d'Italia. Ed ecco qua alle nostre spalle il ricordo dei tre ragazzi, Mara Cohen, Lidia Tedeschi, Renzo Finzi e della professoressa Bianca Autolenghi, che a causa delle leggi razziali da un giorno all'altro stati espulsi. Il senso del lavoro è stato proprio quello di ricordare che prima ancora della deportazione e dell'eliminazione, di cui naturalmente l'installazione dà conto, i 104 sono stati gli ebrei mantovani deportati, prima ancora di questo momento conclusivo, della endlösung, della soluzione finale, nel 1938 era stata perpetrata un'ingiustizia che dobbiamo ricordare e che non si può assolutamente accettare. È un lavoro veramente incomiabile, questi ragazzi si sono andati da fare, hanno dato l'anima per realizzare questa esposizione che ritengo colpisca veramente al cuore e faccia ricordare quei tragici eventi avvenuti una settantina d'anni fa. Lo fa però in un modo molto valido, molto costruttivo. In fondo si mette in pratica quel termine ebraico ricorda, si dice in ebraico zahor, ma è un ricordare per fare, cioè è un invito a ricordare sì, ma ad agire anche in modo che questa memoria sia attiva e valida per i nostri giovani nel futuro. Abbiamo assistito Alberto, Abbiamo assistito Clemente, Abbiamo assistito Esther, Abbiamo assistito Giorgio, Abbiamo assistito... Quello che l'Istituto d'Arco ha realizzato risponde in pieno a questa idea, ricordare e fare. Quindi è una mostra, un'esposizione che consiglio vivamente a tutti i giovani, a tutti i mantovani, ma non solo, perché è un lavoro fatto con l'anima, con il cuore e invita a una memoria in un modo molto intelligente.